In occasione del 150esimo anniversario della nascita di Enrico Caruso, il 25 febbraio 2023 si è tenuto un evento speciale al Museo Memus del San Carlo, nel Palazzo Reale di Napoli, durante il quale è stata annunciata la prossima apertura di un museo dedicato al grande tenore partenopeo. Alla commemorazione ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un grande riconoscimento a un artista straordinario che ha rappresentato l'Italia nel mondo, un grande ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, che finalmente nella sua città, che ha tanto amato, ha quel grande riconoscimento e quella grande rappresentazione della sua storia e della sua arte.